Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Scusate se non l'ho registrato ieri, ma è successo un mezzo casino. In pratica ieri ho preso un colpo d'aria e avevo un mal di stomaco, ma feroce. Quindi praticamente non sono neanche riuscita a fare il pomeriggio là. E vabbè, poi lo recupererò pian piano, però non abituarsi al fatto che non sono più in vacanza è veramente dura. E oltre nulla, oltre quello nulla io poi per tutto il giorno sono stata a casa in cui ho disegnato un po'. Sì, come potete notare mi sto appoggiando qua, sì, qua, proprio qui. E oltre quello nulla, e niente, praticamente abbiamo dei seri problemi con mio padre, ma vabbè. Non ne parlo, perché tanto anche parlarne non servirebbe quasi a nulla, quindi sono stato incrociate le dita per me. E scusate ancora per la reazione che ho avuto con il ragazzo che mi ha scritto quel commento, ma io sono molto severa per il fatto che venivo insultata anche alle medie. Quindi perdonatemi, ma essere insultata non è una cosa che mi garba tantissimo. Quindi se vi interessa, sappiate che se potete evitare di fare commenti, se non vi interessano i miei video, lasciate. Tanto che chi vi obbliga a restare? Nessuno, io non vi obbligo. E nulla. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo tra poco col blog di oggi. Ciao.